Se non ci saranno cambiamenti repentini di scenario nelle prossime ore, nei prossimi giorni, io ho già dato disposizioni all'assessore De Berti ieri di attivarsi per i trasporti e il lunedì apriamo le scuole. Questo ovviamente avendo visto un escursus che era ragionevole, prudenziale e corretto vedere. Perché ragazzi, una rondine non fa primavera, no? Io non posso prendere delle decisioni avendo un giorno di un po' di calo. Adesso abbiamo un trend di 25 giorni, fermo restando che io resto convinto, ma perché me lo dice la prevenzione, perché me lo dicono gli scienziati, che dovremmo monitorare fortemente il tema scolastico, perché comunque non è che si va in diminuzione da rischio. Ovviamente si aumenta un po' di più il rischio, questo poco ma sicuro. Dopodiché le modalità e tutto le definiremo i prossimi giorni. Però mi interessava dirvi questo, perché come vi ho sempre detto, chiudere le scuole è una sconfitta. Ma non è veramente fino in fondo, no? È come rinunciare a un grande progetto. E penso che la comunità debba essere messa in sicurezza, ed è esattamente la scelta che ho fatto, criticata da alcuni, condivisa da molti. E oggi noi possiamo dire che se questi dati non avranno inversione di tendenza da qui al primo di febbraio, noi abbiamo già attivato la macchina. È una macchina che ci mette 4-5 giorni, facciamo una settimana per ripartire. Visto considerato che l'ufficio scolastico regionale dovrà rifare tutti i programmi con parte in presenza. Voi sapete che la presenza è prevista dal 50%, no? In presenza il 50% a casa, fino a un 75%. E poi c'è tutto il tema dei trasporti, perché per dirvi, non so, ma verrà l'assessore De Berti, l'ho invitata, quindi verrà mercoledì o giovedì a darvi un quadro, verranno assunti anche, e ci sarà la figura, ad esempio, di una nuova figura, dello steward. Perché abbiamo visto, ad esempio, con colleghi che hanno aperto prima, pur facendo il bis con il pulma, no? Parte uno, poi arriva l'altro. Magari i ragazzi sono tutti tentati ad andare sulla prima corsa. E allora ci vuole uno steward, uno steward a terra, che dice Fermi, questo va via, non andate a calcarvi sul primo, passate sul secondo. Purtroppo in alcune ragioni è accaduto questo, che è arrivato il bis, semi vuoto, e la corsa di prima, perché magari i ragazzi vogliono arrivare a prima scuola, perché hanno la fase di due chiacchiere prima della lezione, eccetera, finisce che c'è un problema anche di gestione. Gli accordi con i privati sono stati fatti, e verrà l'assessore De Berti, io l'ho sentita anche stamattina, mercoledì, immagino, mercoledì o giovedì massimo, verrà per darvi uno spaccato. Lasciando libero venerdì, perché venerdì è la giornata delle valutazioni, delle aree, noi ragazzi non vi so dire cosa accadrà, però è pur vero che abbiamo fatto tre settimane di arancione. Grazie. Grazie. Grazie.